Riguardo al primo casting di Violetta, devo dire che quando lo feci e uscì, ero molto tranquillo, ero molto fiducioso, non sapevo cosa sarebbe successo, però sentivo che era andato bene, che ero stato bravo, e speravo che da quel momento in poi le cose sarebbero cambiate un po'. Quando andai al casting, io dissi, io sono molto timida, e dissi, che faccio per far capire che... Cominciavo a tenerci, cominciavo a dare importanza a quel casting, quindi mi dicevo, che faccio perché non si veda che mi importa? Entrai parlando al telefonino con nessuno, naturalmente, dicendo Ciao sì, come stai? Oh, salve, voi come state? Bene? Tutto bene? Perfetto, scusami, ti devo lasciare perché ho un casting, ti mando un bacio. Ciao sì, sorry, è capitato che inventai sul momento un personaggio, mi ero anche vestita come non mi vestirei mai, e niente, feci il casting e andò tutto bene.